Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, benvenuti e oggi parleremo un po' di un argomento come sempre un po' difficile, complesso, impegnativo nell'ambito fotografico. Modelle e fotografia, barra fotografi. Allora, parliamo un attimino di questo ambiente che è uno degli ambienti del settore fotografico in Italia più usato, anche se la fotografia ha modelle molto 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 note, frequente anche nel tutto il Regno Unito, in Francia e da qualche anno ha preso molto piede anche in Germania, oltre agli soliti Stati Uniti. Allora, il discorso è un discorso che io oggi voglio intraprendere, un discorso importante, lungo e anche complesso sotto certi punti di vista. Allora, ci sono tante persone che a livello hobbystico o a livello professionale, ovviamente per riviste, solitamente, calendari eccetera, brand, scattano modelle. Modelle, che cos'è la modella oggi? Allora, tutti sapete cos'è una modella, come lavora una modella in teoria eccetera eccetera. La distinzione è che ci sono modelle professioniste, modelle amatoriali e semplici modelle che lo fanno per hobby. Il discorso che è un po' più complicato, che spesso una modella professionista si reputa professionista ma non ha la partita IVA. La partita IVA è un argomento molto 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 importante che viene citato sempre più spesso perché anche tanti fotografi professionisti ha un partita IVA però spesso sono più scarsi di fotografi amatori, questi sono i dati che parlano, lo dico io, e viceversa. Gente che vuole fare il professionista si crede in gamba però non ha la partita IVA, dunque non vive di quello. E anche lì questo nell'ambiente fotografico è un contrasto da ormai almeno vent'anni, se non di più. Io sono nell'ambito del 2009, a livello un po' serio dunque è un po' più complicato anche parlarne, questo è un pochino il contesto. E per le modelle c'è questa grande distinzione che tante sono professioniste però appunto non una partita IVA, non è la partita IVA che fa la modello, fa il fotografo, sono altre cose però per essere giusti nelle regole bisogna sempre essere specifico, sempre essere giusto averla se uno si reputa un professionista e non un amatore. E poi il semiprofessionista in Italia si dice ma non è riconosciuto, dunque evitiamo di usarlo amatore professionista. Questo è un contesto, è una concettualità in un contesto che volevo già citare un po' di tempo fa, comunque ok. Poi il punto 2, perché le persone scattano modelle? Allora prevalentemente si scattano modelle per hobby, tanti l'ambito fotografico che scatta modelle, che fa guadagnare tanti soldi a queste persone perché tante modelle percepiscono un l'auto stipendio enorme, un l'auto compenso, è un ambiente che da anni gira in questo senso, dunque anche lì va interpretato il tutto e vanno messi spesso i puntini sulle I. perché ci sono tante persone che in modo infausto, chiamiamole così, pensano a certe cose ma non sono quelle. L'ambiente fotografico a modelle, non in fotomoda, che è un'altra cosa diciamo, è un ambiente come ho detto molto impegnativo, molto difficile, dove si vive di invidia, si vive di falsità, si vive anche di omertà e di finta amicizia o finta conciliazione tra persone. Io sono in questo ambito da 12 anni, adesso a febbraio andiamo giù per i 13, dunque diciamo che un po' me ne intendo, ho visto di tutto, da grandi professionisti a bravi amatori, a buoni fotografi, a buone modelle, grandi professioniste, a buone amatrici, a personaggi scomodi, a personaggi mi permette di dire abbastanza ironici e sotto certi aspetti anche comici. Comunque, ma non in positivo, è la fase comica ovviamente. Comunque questa è un po' la situazione generale che c'è in questo ambiente. Quello che purtroppo regna in negativo sono due punti, barattere, ma sono due principalmente, la falsità e l'omertà. È un ambiente appunto, come ho detto, molto complesso e difficile. Per tanti aspetti è un brutto ambiente, per non dire bruttissimo, dove c'è un invidia fuori dal normale. C'è gente che ti dice bravo o brava, una modella o un fotografo poi li pugnala le spalle e lo sfotte, parliamoci chiaro, con altre persone, oppure se lo accappara, come si dice in gergo, leccando il posteriore per cercare di accapararsi a un set fotografico per guadagnare. Questo non è tutto così, però è molto così. Non ho detto che è tutto, è molto così. E ci sono delle concettualità, dei contesti spesso difficili dove ci sono persone che pensano di essere quello che non sono, pensano di fare quello che non sanno fare o non possono, e spesse volte ci sono dei contrasti e invidia, appunto come ho citato prima, incredibili in situazioni anche estreme, dove una persona viene derisa, umiliata, presa in giro e anche come dicono molto spuderatamente senza preso in lingua sputtanata. È un ambito che fa girare molto denaro, è un ambito che a livello di brand, gente cerca di fare tanti acquisti fotografici, fa girare soldi con modelle, si fanno nomi, nel senso che c'è gente che è diventata famosa nell'ambito, cioè non sono famosi fotograficamente parlando, poi in questo ambito sono famosi, tipo uno è denominato il maestro del nudo, l'altro è ritrattista magico, uno è maestro della luce e così via. Ci sono tante situazioni, la gatta è salita, scusate, ci sono tante situazioni dove ci sono delle situazioni appunto, scusate il gioco di parole, ambigue, nel senso che si creano i mignoli, si creano personaggi, si creano miti. Questo vale anche molto per il discorso modelle, ci sono fotomodelle, specifico fotomodelle, perché la modella da passarella è un ambito diverso, perché volendo potremmo fare prossimamente un video parlare di questo, ma ci sono fotomodelle che vengono anche lì mitizzate, portate a su piedistalli, a lori e tutto, per essere quello che in verità non sono, perché per molti lo sono, ma per molti, poi molti, chi elogiano una modella, a spesse volte, non sempre, ma spesse volte, sono perché vanno a fare delle foto di nudo. In questo ambito la modella di nudo è una modella che suscita parecchio, diciamo, interesse, perché la gente, i famosi MDF, che non la traducono, potete intuire, a pur di scattare una persona dal vivo, nuda, fanno, non dico di tutto, ma quasi. E' un ambito molto complesso perché le modelle di nudo vengono mitizzate, appunto, messe su piedistalli, quando sono semplici modelle che usano, tra virgolette, usano il loro corpo per, appunto, guadagnare qualche soldo o anche cifre abbastanza buone e fanno questi servizi fotografici che sono sempre i, diciamo, i migliori per i fotografi, tra virgolette fotografi e preferiti e allora si tende a esaltare, mitizzare e portare agli arbori cose, questa ragazza qui è un mito, sa fare tutto. Ultimamente, in questo ambito, se diciamo le cose come stanno, perché vige un'omertà spaventosa, non da parte mia, ma da parte dell'80% delle persone, ci sono stati con questo purtroppo Covid, questi tempi di crisi, cambiamenti incredibili. Modelle che cercano di fare soldi in tutti i modi e chiamano, tra virgolette, sempre fotografi con cui scattano Bancomat, questo è molto molto grave, rispetto all'etica della persona viene messa in secondo piano e con leccate spaventose del fondo schiena del posteriore arrivano a farsi fare dei set molto ben retribuiti, poi creano personaggi, riescono a distruggere altri, portano all'altare, nel senso sempre all'atto, persone che non meritano tutto ciò perché gli fanno dei servizi fotografici, spesse volte, bravo fotografa amatore, ho il bravo professionista che non paga la modella ma fa il famoso TF, che è un servizio ingratura gratuito dove tu paghi, dove tu non paghi le modelli delle fotografie in cambio di ricompense, tu hai il diritto di pubblicazione, sempre attraverso una liberatoria, perché altra cosa molto importante, anche negli amatori, che la metà degli amatori, diciamo un 50% non fa la liberatoria, questo secondo mi avviso è una cosa molto molto grave, anche sotto certi aspetti del liberatorio va sempre fatta, credetemi che almeno la metà delle persone non fa liberatorio, non segue certi protocolli seri sotto certi aspetti, questo è un pochino un grosso punto debole e un grosso male in questo ambiente, e è un ambiente così, un ambiente difficile dove appunto ci sono invidie, umiltà, falsità, dove tante persone pensano di essere quello che non sono, dove tante persone vengono elogiate, dove tante persone si fanno un nome e dove tante persone appunto sono qualcuno, qualcosa che in un contesto reale non utopistico ovviamente non ci sarebbero, questo è un po' il tutto. Poi sul professionismo ragazzi, allora lì stendiamo, apriamo, non stendiamo un telone da teatro perché ci sono anche lì grandi professionisti che ovviamente lavorano per riviste, che fanno andare queste fotomodelle su riviste, su giornali, spesse volte anche lì qualcuno ci gioca dentro, come si dice, va su rivistine che non valgono nulla, però può di accapararsi la modella, farla pubblicare, che le modelle poi quando si vedono pubblicate non tutte ma spesso molte, si esaltano e si credono chissà chi, allora le convincono attraverso sotterfuggi nel senso, no ma questa è una rivista importante, poi fateci caso, la maggior parte sono tutte riviste estere, piccoli giornaletti statunitensi, russi, prevalentemente sudamericani o inglesi, che fanno, hanno una, sì, una piccola editore che fa queste cose con un cerchio di vendita e anche palo traditore molto basso, però una può andare in copertina, sono piccole soddisfazioni, poi di recente si è scoperto che se uno paga queste riviste può andare in copertina o può andare sulla rivista, pagando anche 100-200 dollari ho letto, dunque alla fine peggio di così si muore, come si dice in gergo, tante persone non famose che sono andate con queste copertine si credono famose, poi alla fine c'è sotto insomma la gabola, come si dice in gergo, dunque anche lì è abbastanza tragicomico il tutto, qualcuno invece riesce ad andare su riviste serie, qualche fotografo è serio, riesce a fare lavori importanti, ben attribuiti, in Italia ce ne sono un po', bravi, capaci, qualcuno lo conosco anche io, anzi più di qualcuno e via, dunque anche qui è un ambiente tosto perché anche lì poi ci sono invidie, sotterfugie eccetera, come spesso parlano, purtroppo parlano in pochi, perché anche lì è molto individuale il tutto, tutti portano l'acqua il proprio mulino e spesso ci sono scontri su situazioni banali che gente di 30, 40, 50 e 60 anni di bambini piccoli si fanno delle guerre, le guerre inutili, come ne chiamo io, guerre tra persone incapaci e povere, povere non dico economicamente ma povere dentro e via. E questo fa un po' riflettere sul discorso che stiamo portando avanti ormai da mesi sull'etica fotografica e sulla concettualità di che cosa la fotografia, la famosa fotografia concettuale che si abbina e parla di etica fotografica e poi trovi questi ambienti, in questi contesti, sia amatoriali che professionali, dove c'è un pochino, diciamo, del marcio eccetera. Questo è un po' che cosa oggi le fotomodelle e la fotografia in generale, per fortuna allo specifico lo ribadisco bene, non è tutto così, però c'è una buona parte che è così, è veramente una parte a mio avviso molto triste, molto brutta e che noi specchia che cos'è realmente oggi in un contesto globale italiano, parliamo per non andare fuori dall'Italia, che cambia molto il tutto, anche se poi non è pulitissimo neanche fuori, ma comunque ok, la fotografia oggi che cosa è diventata? Quando la fotografia è morta si dice ormai 15-20 anni fa, adesso non è morta, è sotterrata, ha toccato il fondo, ma non riesce neanche più a risalire, perché è talmente inquinata da cose negative in contesti veramente sbagliati ed errati sotto ogni punto di vista, che sinceramente stendiamo un velo pietrosi e andiamo avanti. Comunque questa è un po' la concettualità, molte persone non sono d'accordo su quello che dico, ma perché appunto sono i primi che diciamo ci guadagnano e ci sguazzano su questa cosa qui. E le modelle, come sempre, tantissimo mertà, ognuno porterà col suo mulino a zitte, nessuna o quasi nessuna, anzi, dice le cose come stanno. Questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete like, continuate a seguire, mi proponete anche nuove tipologie di informazione sull'ambito fotografico, non solo, per cercare di fare requisiti e cose importanti. Ciao a tutti, alla prossima e buona giornata.